Buon pomeriggio a tutti, sono Matteo Paganini, benvenuti a questo appuntamento con i nostri webinar educativi. Questo mercoledì, dopo aver visto insieme a Davide durante le scorse settimane dei webinar sui volumi, vi ricordo che potete in qualsiasi momento andare a recuperare le registrazioni sul nostro canale di Youtube, bene, per questa settimana andremo a ragionare sullo Strong Week, lo Strong Week è un indicatore di forza o di debolezza, come si evince dal nome dell'indicatore, il nome è in inglese ma è facilmente traducibile, strong significa forte, weak significa debole, quindi forza e debolezza, chiaramente di valute, parliamo di mercato valutario. Questa è una breve presentazione che chi è stato al nostro trading conference ha avuto il piacere credo di ascoltare da parte di Alejandro Zambrano che è un mio amico, un mio collega di Londra, responsabile del Daily FX UK, del Daily FX di Londra. Adesso andiamo a rivedere velocemente questa presentazione, dopodiché metterò a disposizione il video, la registrazione sempre sul nostro canale di Youtube che è un po' il nostro store, più sui social network e chiaramente rimaniamo a disposizione per qualsiasi tipo di commento sul forum del DailyFX.it. Partiamo subito con il programma di oggi, andremo via veramente molto veloce sulle slide, dopodiché andremo a vedere se ci sono delle possibilità per impostare delle operazioni sui prezzi reali, sui prezzi attuali, comunque cercheremo di trasmettere dei concetti importanti. Andremo a vedere perché l'analisi di forza e di debolezza sulle diverse coppie di divise, dimostrazione dal vivo dell'applicazione, quindi andremo a vedere degli esempi sempre sulle slide per quanto riguarda eventuali metodi applicativi utilizzando dei concetti molto semplici di analisi tecnica che esulano dal mio metodo, il metodo dei 5 punti, ma va a sfruttare dei concetti chiari a tutti e conosciuti dai più. Andremo a vedere anche dal punto di vista dei breakout come eventualmente utilizzare delle determinate strategie molto semplici, dopodiché ci sarà spazio come sempre per le vostre domande e potremo ragionarci insieme. Allora, innanzitutto questa slide si intitola Puoi sbagliare ma vincere, io non ho fatto queste slide, le ho tradotte soltanto, ma tendenzialmente tutto quello che è contenuto all'interno di questa breve presentazione fa senso e ne fa molto di senso. Andando per punti vedete, migliaia di trader hanno scaricato ed integrato l'analisi Strong Week nel loro trading perché nel mercato FX, quindi nel mercato Forex, ogni operazione è fatta su una coppia di valute, coppia di valute significa che si stanno tradando due valute e quindi due economie, si potrebbe essere in errore su un'economia ma vincere lo stesso, quindi potremmo avere un'idea sull'euro per esempio di debolezza, io vedo un euro indebolirsi a livello generale in quanto abbiamo per esempio un'inflazione bassa, siamo all'interno di una crisi economica dalla quale non siamo ancora usciti e quant'altro, ma non mi basta questo per guadagnare sul mercato, io non posso comprare o vendere l'euro, in questo caso vendere l'euro a caso, così da solo, devo venderlo contro un'altra divisa, io quando vado ad operare sto operando sull'euro contro il dollaro, sull'euro contro la sterlina, sull'euro contro il dollaro neozelandese e via discorrendo, se io vi faccio una domanda e vi chiedo quante vale un euro, l'unica risposta sensata che potete darmi se non quella di consigliarmi un manicomio è quella di dirmi un euro vale un euro, altrimenti la domanda che vi faccio deve essere seguita non da una risposta ma da una domanda da parte vostra, quindi io vi chiedo quanto vale un euro e voi dovreste chiedermi contro che valuta, perché contro il dollaro varrà un certo valore, contro la sterlina un altro e via discorrendo, sta di fatto che il concetto è che si tradano sempre una valuta contro un'altra, quindi due valute di due aree geo economiche diverse, euro contro dollaro, euro contro la sterlina, potrei avere ragione su un'economia o potrei essere in errore su un'economia e guadagnare lo stesso dei soldi. euro dollaro, cambio più scambiato al mondo, quando si va per esempio lunghi sull'euro dollaro la domanda da farci è sto andando lungo sull'euro o sto vendendo il dollaro, così come nel momento in cui dovesse andare corto sull'euro dollaro la domanda da farmi qual è sto andando lungo di dollaro USA o corto di euro, quindi ho sempre questa dicotomia, per esempio oggi non so se l'avete visto, salto fuori un attimo dalla presentazione, se andiamo a prendere una piattaforma e andiamo a prendere i nostri grafici abbiamo un'evidenza importante per esempio di una forte discesa del dollaro americano per quanto riguarda la giornata di oggi dovuta la pubblicazione di un PIL che ci attendavamo già dalla mattina negativo con una release a meno 2,9% contro un meno 1,8% atteso, se voi guardate c'è stato l'euro dollaro che è salito, la sterlina dollaro che è andata a salire, mi riferisco a 4 candele fa quando chiaramente si va a ragionare sulla release del dato, l'Australia dollaro che è salita e il dollaro yen che è sceso in maniera forte, qui si tratta di acquisti di euro, di acquisti di sterline e di acquisti di dollaro australiano e di acquisti di yen oppure si tratta di vendita di dollari contro tutte queste valute, se andiamo a vedere per esempio il dollaro canada, quindi il dollaro americano contro il dollaro canadese abbiamo avuto il dollaro americano scendere, così come su Nuova Zelanda dollaro per esempio, se prendete anche un grafico del Kiwi vedete che è andato a salire il Kiwi, quindi è sceso il dollaro, in questo caso è stato il dollaro che ha perso contro tutte le valute, quindi vedete che anche nella vita reale, nel trading reale, questo discorso di dicotomia è una cosa importante, è una cosa da tenere sott'occhio. Torniamo sulle nostre slide e andiamo avanti, allora riprendiamo la nostra slide e andiamo a ragionare sugli esempi, per esempio io ho una visione di debolezza sull'euro, voglio vendere l'euro, se ragiono sull'euro dollaro per esempio vedete come tendenzialmente il grafico si stia muovendo addirittura a rialzo, per cui se io penso che l'euro debba essere debole e lo vendo contro il dollaro americano è facile che tendenzialmente se ragiono su un medio periodo sono andato a perdere dei soldi, allora che cosa faccio? Vado a fare uno screening di tutte le altre valute, vado a vedere per esempio di paragonare l'euro al dollaro canadese, il dollaro canadese in questo caso se voi vedete contro l'euro è la linea gialla, se voi guardate vedete che addirittura rispetto all'euro dollaro abbiamo avuto dei periodi dove abbiamo avuto un euro più forte e adesso siamo più o meno sugli stessi livelli, se andiamo ad aggiungere altri cambi, altri cross in questo caso, l'euro yen è stato un proxy un po' dell'euro canada e dell'euro dollaro dove tendenzialmente saremmo andati a perdere dei soldi nella prima parte dell'anno per poi andare a recuperare qualcosina ma niente di che, se iniziamo a ragionare sull'euro pound invece per esempio vedete che qui siamo rimasti abbastanza stabili, siamo saliti fino a un buon livello, dopodiché abbiamo iniziato a scendere e qui il mercato è andato dalla parte che ci aspettavamo, se andiamo a prendere l'euro Nuova Zelanda per esempio invece abbiamo avuto un euro che è andato a scendere in maniera molto forte, dopodiché abbiamo perso un po' del potenziale guadagno che potevamo avere, ma vedete che l'euro come valuta si è andata a comportare in maniera nettamente diversa a seconda della controparte, chiamiamola così, contro cui era quotato, quindi un euro dollaro grafico bianco, un euro Nuova Zelanda grafico giallo, quindi vedete in base alla valuta contro cui scelgo di vendere l'euro perché penso che l'euro sia in debolezza, mi cambia completamente un risultato di trading. Trova il più forte contro il più debole, vendi l'euro ma esso non diviene più debole della valuta a cui l'hai binato, allora perderai dei soldi, caso dell'euro dollaro grafico bianco, perderai anche se la tua analisi iniziale che vedeva un euro indebolimento fosse stata corretta. Lascia che l'applicazione StrongWeek possa guidarti e qui entriamo nell'ambito corretto della nostra trattazione e andiamo a vedere nello specifico che cos'è questa applicazione, non è nient'altro che una schermata che vi mostrerò tra poco, dove abbiamo 4 time frame di riferimento, 15 minuti come vedete qui, grafico orario, grafico a 4 ore e grafico giornaliero, è aggiornata ogni 5 minuti questa applicazione e mostra una valuta contro tutte le altre se sta mostrando dei segnali di forza o dei segnali di debolezza a seconda del time frame di riferimento che stiamo analizzando. L'applicazione insomma i movimenti netti di pip di tutte le 7 major contro l'euro, quindi l'euro contro il dollaro, la sterlina, il franco svizzero, il neozelandese, l'australiano, il canadese, eccetera, eccetera, dopo lo vedete bene schematizzato, e va a vedere quanti pip ha perso all'interno del time frame di riferimento, quindi se su 15 minuti l'euro contro il dollaro ha perso 5 pip, contro la sterlina ne ha persi altri 5, contro il franco ne ha persi altri 5, saranno 15 pip spersi, e via discorrendo. Così facendo ci fa vedere a colpo d'occhio con un istogramma, quindi con un grafico a barre, molto velocemente quale è la valuta che risulta essere la più debole, la più forte e ci permette di fare questi tipi di ragionamento. Allora, andiamo subito a vedere lo Strong Week, dopodiché ragioniamo anche su queste potenziali tecniche di Alejandro, che sono delle cose molto semplici che vi posso spiegare veramente in poco tempo, ma volevo vedere prima con voi proprio l'indicatore, lo Strong Week. Lo Strong Week è scaricabile dal sito www.fxemapp.com, per qualsiasi informazione a riguardo potete scrivermi la mia mail personale mpaganini, senza punti, senza niente, chiocciola, fxcm.it, dopodiché la girerò io a chi di dovere, e questa è la schermata che dovrebbe diventare la nostra amica nel momento in cui decidessimo di utilizzare questo indicatore come suggerimento per il trading, come indicazione aggiuntiva per il trading. Come vedete, partendo dalla sinistra abbiamo un grafico aggregato dove ci fa vedere, per esempio, la sterlina, quanti pip sta perdendo su base giornaliera, su base oraria, a 4 ore e quant'altro, se voi vi posizionate sopra con il mouse, per esempio, partiamo dalla sterlina, avete che su un grafico daily abbiamo meno 217 pip, che è il pallino viola, su un grafico a 4 ore meno 173 pip, su un grafico orario meno 89 pip e sul grafico a 15 minuti meno 13 pip, ma non vi interessa tanto questo grafico qua perché tutti questi valori li ritrovate nei time frame di riferimento e sono molto più visibili a colpo d'occhio, quindi su 15 minuti se io guardo la sterlina e vedo che qui ho un pallino blu che mi segna meno 13, guardo il grafico a 15 minuti, vado a vedere quanto sta scendendo questo histogramma, vedo già almeno 13, per cui tutto quello che vedo qui è riportato per histogrammi e poi ognuno faccia quello che vuole, ma tendenzialmente io posso andare anche a nasconderlo il grafico aggregato, qua sotto c'è default layout, quindi potete rimettere il layout di default e decidere come impostarlo, doppio clic su ogni finestra va ad ingrandirla nella sua finestra di riferimento, doppio clic ancora lo fa tutto schermo, ma questi sono smanettamenti che voi potete andare a vedere da soli, non ci interessa tanto graficamente come impostare questo indicatore, ma ci interessa capire come si può andare ad utilizzare. Innanzitutto quello che dicevamo prima, per esempio se io sto valutando su un grafico a 15 minuti come si sta comportando l'euro, io andrò a sommare tutti i pip che su time frame a 15 minuti negli ultimi 5 minuti, perché viene aggiornata di 5 minuti in 5 minuti, quanti pip sta perdendo l'euro contro la sterlina, contro il dollaro, contro lo yen, contro il franco, contro il canadese, contro l'australiano e contro il neozelandese e via discorrendo per gli altri. Da qui si vede per esempio che su 15 minuti lo yen è quello che in assoluto è il più forte di tutti, quindi su time frame a 15 minuti abbiamo uno yen che si sta rafforzando tanto, la cosa che viene da fare è quella di andare a vedere se lo yen si sta rafforzando anche su altri time frame, quindi su un time frame orario, su un time frame a 4 ore e su un time frame giornaliero. Su un orario vediamo che la situazione è diversa, con uno yen che si sta indebolendo così come su un grafico a 4 ore, mentre su un grafico giornaliero lo yen è a rialzo. Quindi abbiamo delle indicazioni contrastanti, ma poco ci interessa perché noi dobbiamo andare a fidarci al time frame di riferimento quando stiamo lavorando su un certo tipo di mercato. Quindi se io lavoro su grafici orari è giusto che vada a vedere la forza oraria o la debolezza oraria di queste diverse coppie di divise. Per esempio se vado a lavorare su un 15 minuti, partiamo da qui, io vedo che il più forte di tutti è lo yen e il più debole di tutti è l'australiano. Se voi andate a ragionare, ad accoppiare queste due valute, che cosa abbiamo? Il cross è formato da dollaro australiano al numeratore e yen giapponese al denominatore, l'australia yen. In questo caso che cosa mi aspetto? Che se io vado a vedere un grafico di australia yen, che cosa dovrà fare questo grafico? Se vado a prenderlo, prima di svelarvi la risposta, andiamo a vederla in diretta, io ho un australiano, allora mettiamo un 15 minuti, io ho un australiano che si sta indebolendo e uno yen che si sta rafforzando, guardando un grafico a 15 minuti dell'australia yen, io che cosa ho? Ho un mercato che adesso si sta andando ad appoggiare su punti di resistenza, per esempio, secondo quelli che sono i miei metodi, vedete qui abbiamo un mercato che è andato a strappare bene a ribasso, sta andando a correggere verso le zone di resistenza, zona di resistenza statica, area di media mobile, stocastico che è arrivato in zona di ipercomprato, ho un'indicazione sull'australia yen di questo tipo, quindi io ho un australiano che tendenzialmente sta perdendo contro tutte le altre coppie di valute e ho uno yen che si sta rafforzando, è possibile che l'australia yen nei prossimi minuti possa provare a scendere, quindi l'australia che si va ad indebolire con uno yen che rimane forte, l'idea è quella che si possa andare a sfruttare un'operazione del genere, quindi una cosa che io magari non sarei mai andato a vedere perché l'australia yen non lo trado, avendo sott'occhio un grafico del genere, soprattutto in momenti di volatilità bassa come quelli che stiamo vivendo negli ultimi mesi, andare a ragionare su questi rapporti di forza e debolezza può essere un qualcosa di interessante. Stessi concetti possono essere applicati su time frame orari, dove per esempio abbiamo la sterlina che è la valuta che sta perdendo più di tutti e il neozelandese per esempio invece che sta mostrando una buona forza a livello orario, mettendo insieme la sterlina e il dollaro neozelandese che cosa abbiamo? Abbiamo sterlina contro Nuova Zelanda, una sterlina al numeratore che può scendere e un Nuova Zelanda al denominatore che in qualche modo può andare a salire, il che cosa significa? Che se io vado a ragionare su un rapporto del genere avrei tendenzialmente un prezzo che può andare a scendere se vado a ragionare su questi canoni. Se vado a prendere per esempio una sterlina Nuova Zelanda su un time frame orario, vedete come si ha già rappresentato questo movimento di discesa, è chiaro che bisogna avere dei setup tecnici da sfruttare, non basta che la sterlina Nuova Zelanda mi stia facendo vedere un movimento così bene a ribasso per entrare così ad occhi chiusi, in quanto io potrei vedere, potrei guardare lo strong wick adesso, potrei guardarlo tra 10 minuti, non vuol dire che nel momento in cui lo guardo mi rendo conto che un qualcosa è debole, un qualcosa è forte, allora vado e faccio clic, vado e valuto, in questo caso vedete che il movimento principale è già avvenuto, mi ha messo comunque un campanello d'allarme facendomi vedere che la sterlina è debole e la Nuova Zelanda è forte, il che cosa mi fa pensare? Che se si dovessero creare delle opportunità, per esempio una rottura dei punti di minimi oppure un pullback dei primi punti di resistenza, potrebbe essere il caso di pensare di entrare sulla sterlina Nuova Zelanda e forse questo può essere un'idea migliore rispetto a quella che mi potrebbe venire guardando i cambi canonici o guardando determinati coppi di valute, per esempio l'euro dollaro perché tutti guardano l'euro dollaro oppure l'Australia dollaro eccetera, da qua si possono andare a ragionare anche i diversi cross, così come sul grafico a 4 ore e così come sul grafico giornaliero, per cui di suo lo strong week ci mostra questo, dopodiché dobbiamo essere bravi noi a dare quel tocco in più alle indicazioni che ci vengono date dal mercato, dei suggerimenti possono essere quelli di utilizzare un indicatore che si chiama pivot point, basta che andiate in piattaforma, tasto destro sul grafico, aggiunge indicatore, scegliete il pivot point e così come lo trovate lo inserite, quindi date subito l'ok senza andare a modificare nessuna impostazione, il pivot point centrale è quello che viene disegnato in nero e in grigio di solito dalla piattaforma, che mostra una media semplice dei prezzi high, low, close e open, quindi si prende il prezzo di apertura, di chiusura, il massimo e il minimo della giornata precedente, si fa una media semplice, quindi si sommano i 4 prezzi, si divide per 4, dopodiché in base a dei calcoli vengono restituiti dalla piattaforma S1 e S2 che sono dei livelli potenziali di supporto per la giornata, validi soltanto per la giornata in cui io sto considerando questo pivot point, mentre sopra abbiamo R1 e R2 che sono dei livelli di resistenza. Da statistiche che sono state fatte, per circa l'80% del tempo il prezzo si muove tra S2 e R2, quindi significa che per l'80% del tempo il prezzo viene plottato e viene contenuto dall'ultimo punto di supporto e dall'ultimo punto di resistenza e l'indicatore può essere basato su diversi periodi, ma il mio consiglio è quello di tenerlo così come viene visualizzato dalla piattaforma, quindi calcolato sui time frame daily precedenti. Ragioniamo su come utilizzare questo pivot point di fronte a un trend rialzista, quindi noi andiamo a vedere per esempio, non so, abbiamo visto prima, beh non abbiamo visto nulla non abbiamo visto nulla di forte, fatemi vedere lo strong week se ho un qualcosa che si può andare a sfruttare, per esempio su un time frame a 4 ore vedete che, Nuova Zelanda dollaro, guardiamo Nuova Zelanda dollaro, cosa che possiamo andare a vedere anche su time frame più piccolo, ma stiamo su un 4 ore, stiamo un attimino più calmi. Nuova Zelanda dollaro che cosa ci sta facendo vedere? Che il mio zelandese si sta andando a rafforzare, il dollaro americano invece è che ci sta indebolendo, quindi mi aspetto di andare su un grafico a 4 ore e di vedere un grafico in salita, sto andando a prenderlo anche per voi, ecco bene lo vedete, quindi vedete Nuova Zelanda che guadagna, dollaro che sta perdendo, questo non significa che chiaramente il neozelandese stia guadagnando contro tutti gli altri, è sempre una coppia di divise, questo ci aiuta a scegliere la coppia migliore. Se vado ad inserire il pivot point, in questo caso vediamo se ci da una mano o se rimaniamo sulle slide, perché comunque a livello didattico vedete una volta che scelgo pivot point do l'ok così com'è. Ok, adesso siamo passati sopra al livello di pivot, abbiamo superato R1, stiamo andando ad R2. R2 potrebbe essere un buon target di profitto, adesso capiamo insieme il perché. Comunque tendenzialmente se andiamo a prendere le nostre slide e le riprendiamo, un'idea quale può essere? Quella di andare a vedere di fronte a un trend rialzista come si stanno muovendo i prezzi rispetto ai pivot, chiaramente dopo aver scelto qual è la coppia di valute sulla quale vogliamo operare perché abbiamo visto che la valuta al numeratore si sta rafforzando e quel denominatore si sta indebolendo, l'idea qual è? Che fino a quando rimaniamo sotto al pivot centrale il mercato potrebbe essere ribassista, quando siamo sopra il pivot centrale il mercato può essere rialzista, molto spesso se siamo di fronte a quello che poi capiremo essere un trend rialzista, cosa che non possiamo sapere all'inizio ma all'interno della quale comunque ci dobbiamo trovare, spesso succede che S1 che il primo supporto va a tenere ed eventualmente il mercato può raggiungere R1 o R2 come in questo caso. Se andiamo a vedere quello che è successo sul Nuova Zelanda dollaro adesso vedete che siamo di fronte a un trend che effettivamente è crescente, il mercato una volta che abbiamo calcolato i pivot di oggi è riuscito a rimanere sopra S1, ha rotto il pivot, ha rotto R1, adesso stiamo arrivando a R2 che integrata con i punti di massimo può restituire un buon livello sul quale andare a chiudere l'operazione. Ok, quindi a livello di pivot può essere una buona idea quella di ragionare in questo modo, si sceglie in base allo strong week qual è una coppia di valute sulla quale si può operare, si inseriscono i pivot point, si guarda se siamo in un trend crescente S1 può fare da supporto, R2 può essere un punto di presa di profitto. Così come in un trend ribassista dopo aver fatto gli stessi ragionamenti, R1 può andare a tenere come livello e S2 può essere un buon livello di target. Nel momento in cui abbiamo una rottura sopra R1 possiamo muoverci verso R2 come abbiamo visto sul grafico del Kiwi, mentre quando abbiamo una rottura di S1 possiamo muoverci su S2. Comprare i ribassi, buying the deep, questa è una tecnica di Alejandro, non è una tecnica mia, ci sono dei consigli che comunque male non fanno. Trading di breve, usando la sezione a 4 ore dell'applicazione strong week, quindi si guarda su un 4 ore quale è il time frame di riferimento per scegliere la coppia di valute, si sceglie la coppia di valute, si possono utilizzare i pivot point, si scende su un time frame a 30 minuti, si può pensare a un ingresso addirittura su un 5 minuti. Utilizzare il caldario macroeconomico per risolvere problemi, operare soltanto durante la sessione europea perché è la più volatile di tutte, durante le sessioni asiatiche il mercato va a stringersi soprattutto sulle valute europee, che significa mercato laterale, spread più alti, difficoltà ad operare e si possono usare gli stessi time frame, gli stessi setup su un time frame daily. Quindi queste sono un po' le linee guida, quindi Alejandro che cosa ci sta dicendo? Qui ci sta dicendo di andare secondo lui a selezionare sullo strong week un time frame a 4 ore di riferimento, dove abbiamo visto per esempio che Nuova Zelanda dollaro è rimasto bene in forza oggi, ci consiglia di scendere su time frame più piccoli, quindi di scendere su un time frame a 30 minuti dove vedete comunque esserci, essere riportati i punti di pivot e per quanto riguarda l'ingresso si può scendere addirittura su un 5 minuti, cosa che comunque io non vado a consigliare per cui non mi sento di rafforzare questo concetto, ma una mezz'ora o un 15 minuti può essere ottimo comunque per pensare a dei livelli di ingresso. Se guardiamo un 15 minuti, che cosa succede qui? Succede che durante la notte abbiamo detto di lasciare stare tutto, durante la mattinata il mercato va a partire e inizia, lo vedete qui, intorno alle 10 a rompere a rialzo, sopra dopo aver tenuto S1, sopra il pivot point si va a R1, R1 che inizialmente tiene, dopodiché si va a R2. Se andate a vedere e riuscite a strarvi un attimo dai pivot point e rimaniamo su quello che può essere il mio metodo, su un 15 minuti vedete come il mercato una volta che si è portato sopra i punti di attenzione, i punti di resistenza, ha strappato, è tornato verso la media mobile, adesso sta ripartendo, vediamo se va a formare una divergenza ribassista su un time frame a 15 minuti, cosa che ha provato a fare anche se in maniera un po' sporca qui, il mercato è partito a ribasso, dopodiché è intervenuta la media che sappiamo essere una zona di interferenza più forte dello stocastico e via. Comunque utilizzando anche i pivot e quindi facendo un trading più semplice a livello statistico molto spesso accadono delle situazioni del genere, quindi questo è un po' quello che si potrebbe impostare come metodo di studio. Un'altra cosa importante e con questa credo che andremo a chiudere, sì andiamo a chiudere, dopodiché ho a disposizione qualche minuto per vedere le vostre domande e se vi rivedete questo webinar e lo digerite un attimo da domani possiamo parlarne in maniera più approfondita. Una cosa interessante sono questi istogrammi, quindi ci fa vedere la probabilità di swing sui minimi nel momento in cui un trend è crescente o sui massimi nel momento in cui un trend è decrescente. Se voi andate a vedere qui che cosa abbiamo? Gli orari sono orari di Londra per cui dobbiamo aggiungere un'ora a quello che vediamo, tendenzialmente tra le 8 e le 9 del mattino, se siamo all'interno di un trend crescente e vediamo prezzi fare un minimo relativo, molto spesso i minimi di giornata si distribuiscono all'interno, nei dintorni di questa fascia oraria, per cui cosa significa? Che se dopo aver fatto tutte le nostre analisi che abbiamo visto fino adesso, vediamo che il mercato sta segnando un minimo relativo durante la mattina, è probabile che questo rimanga al minimo della giornata. Se andiamo a vedere invece la probabilità di swing sui massimi in un trend crescente, significa quando i prezzi vanno a formare i massimi la maggior parte delle volte, vedete che ce li abbiamo intorno alle, tra le 15 diciamo e le 17 del pomeriggio, quindi tra le 3 e le 5 del pomeriggio ora italiana è possibile che se si vanno a formare dei massimi, siano i massimi di giornata. Questa è un'informazione interessante da poter andare ad utilizzare per integrare il nostro trading, chiaramente se parliamo di trend decrescente sarà al contrario la situazione, quindi se vediamo un massimo tra le 8 e le 9 del mattino è possibile che sia il massimo di giornata, così come se vediamo un minimo tra le 3 e le 5 del pomeriggio è possibile che sia il minimo, per cui se si entra lunghi al mattino su un minimo è buona cosa, buona idea mantenere la posizione almeno fino alla metà del pomeriggio perché è possibile, è probabile più che altro che il massimo dal punto di vista statistico vada a formarsi all'interno di quella zona, quindi liquidare la posizione prima potrebbe essere riduttivo in termini di profitto, così come se ci troviamo di fronte a un mercato che mi compie dei massimi intorno alle 8 e le 9 del mattino, massimi relativi, è possibile che siano dei massimi della giornata, tenere la posizione corta fino a quando si arriva durante la fascia oraria che abbiamo visto nel pomeriggio. Questo è un po' lo strong week, quindi un indicatore utile da poter utilizzare per il nostro trading perché a colpo d'occhio ci dà la visione di forza o di debolezza di una valuta rispetto a un'altra. Come detto io adesso vado a fermare la registrazione, mi metto grazie Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.